primo corso di pizza napoletana che cosa c'è dentro cosa ci sarà dentro ma insomma questo corso cosa contiene ragazzi dentro c'è tutto quello che noi sappiamo abbiamo accumulato in dieci anni di acquisizione competenze informazioni e quant'altro sulla pizza napoletana zero segreti come il costume normale della confraternita della pizza ma questo corso cosa contiene parleremo di ogni aspetto possibile della pizza napoletana partendo dalle farine come funziona la teoria la tecnica di formazione impastamento tutti i vari tipi di staglio i vari tipi di stesura le cotture con i vari tipi di forni quindi forno casalingo forno con cannello a cottura con cannello il forno a legna il forno a gas tipo ardore tipo godino insomma avremo tutti i tipi di fornetti a conchiglia bellissimi avremo una quantità enorme di proposte da farvi vedere è veramente un gran bel corso ci sarà di tutto quindi venite partecipate non ci sono segreti o meglio vi diremo qual è il segreto della pizza napoletana alla prossima ma questo corso cosa contiene la sostanza io voglio avere la sostanza grazie a tutti grazie a tutti